Siamo di nuovo qui alla spiaggia di Pluto con la signora Franco, ormai è un appuntamento fisso del giovedì. Ci sono queste bellissime sedute di agility, ricordiamolo, col nuovo branco. Esatto, è il gruppo cinofilo, il nuovo branco ed è sempre il presidente, il signor Roberto, che ci fornisce queste informazioni molto utili, specialmente nell'educazione cinofila. Soprattutto per i cani tanto grandi, di taglia tanto grande, è utile avere una persona che ti consigli. Esatto, anche perché bisogna prima vedere il proprietario del cane e dopo il cane. Che poi dicono che i cani semigliano ai padroni, è vero? Esatto, sì. Allora, poi diamo un appuntamento per questo sabato, no, domenica. Domenica 2 agosto alle 10.30 c'è il responsabile della formazione tecnica Italia della Royal Canin, il dottor Stefano Mazzi, e parlerà qui alla spiaggia di Pluto dell'importanza di un corretto approccio nutrizionale del cane. Proprio qui in spiaggia, sì, perché in effetti è vero, spesso i cani poi sono viziati, mangiano di tutto. Esatto, e dopo questo direttore della Royal, praticamente, faremo anche per i nostri clienti un buffet, diciamo, in spiaggia. Anche per i cagnolini? Vediamo, vediamo se riusciamo anche per i cagnolini. Allora ci vediamo domenica 2 agosto qui alle 10.30 con la Royal Canin, con la signora Franca e con tanti cagnolini. Esatto, se volete venire potete venire anche voi. Grazie mille.